I consigli di Fedele Quante volte hai sentito storie di truffe che iniziano con l'anziana signora ha fatto entrare in casa un finto tecnico? Fatti furbo e segui il decalogo contro le truffe creato per te dai carabinieri. Attenzione a chi bussa! Controlla dallo spioncino prima di aprire e se apri di uno sconosciuto fallo con la catenella attaccata e non fare aprire ai bambini. Sei un funzionario? Fatti mostrare documenti e tesserino e non chiamare il numero che ti ha dettato potrebbe essere un complice. Se è posta o sono pacchi inattesi fattili lasciare nella cassetta o sullo zerbino. Non dare per nessuna ragione soldi a sconosciuti e se stai comprando merce porta a porta allora pagala tramite bollettino così avrai una controprova del pagamento. Infine se hai aperto la porta di uno sconosciuto e ti senti a disagio chiama subito il 112. Carabinieri possiamo aiutarvi!